Se c'è una cosa che ho imparato nelle migliaia di sessioni private che ho svolto come tarologa negli ultimi anni della mia vita è che il modo in cui viene posta la domanda determina gran parte del risultato di una sessione. Una lettura di tarocchi può risultare stressante, depotenziante, in quei casi in cui vedete dei risultati diversi da quelli che desiderate oppure se fatta bene può realmente cambiarvi totalmente la vita in meglio, può darvi degli spunti e delle informazioni che trasformeranno non solo il vostro momento presente e il più probabile futuro ma in generale possono cambiare il vostro modo di pensare e di vedere le cose e quindi di reagire agli eventi della vita e creare per voi una vita decisamente migliore. Ecco perché ho deciso di girare questo video perché voglio darvi dei suggerimenti su come porre le domande. Qual è il modo migliore per chiedere qualcosa alle carte di tarocchi? Come sfruttare al massimo questo strumento per ottenere il risultato più potenziante e positivo possibile? Cominciamo con il dire banalmente che quando facciamo una domanda poco chiara otteniamo una risposta poco chiara ma quando le nostre domande sono precise e specifiche quello che otterremo saranno risposte precise e specifiche. Dunque ecco una prima regola da seguire in generale quando si si ci approccia ad una lettura di tarocchi. Essere più precisi possibile ed evitare cose generiche del tipo guarda un po' tutto quello che vedi? Oppure dimmi tu che cosa vedi di interessante nella mia vita? In questi casi infatti tarologi o cartomanti inesperti potrebbero trovarsi molto a disagio di fronte a questo tipo di domande ma anche i più esperti potrebbero darvi delle risposte che in fondo non dicono nulla di realmente interessante o di importante per voi. Quindi quando siete di fronte a un tarologo o a un cartomante non abbiate paura di raccontare la vostra storia non abbiate paura di esprimere dire tutti i dettagli che per voi risultano interessanti o importanti poiché quei dettagli potrebbero proprio guidare la lettura nella direzione migliore e portarvi ad ottenere le risposte più utili. Ma cominciamo subito con la parte più importante del video e vediamo quindi come porre domande potenti che vanno dritte al nucleo della situazione che vogliamo analizzare. Voglio cominciare con una frase che spero vi faccia riflettere. Il motivatore più famoso al mondo Tony Robbins una volta ha detto le domande sono la risposta poiché la qualità della tua vita è il riflesso delle domande che poni a te stesso. Cominciamo subito con il vedere quali domande non dobbiamo fare. Domande del tipo tornerà da me? Avrò la promozione? Passerò l'esame? Devo chiamarlo? Sembrerebbero domande perfettamente lecite e corrette ma cosa accade quando il tarologo o il cartomante dall'altra parte vi dicono no non tornerà da te oppure no non passerai l'esame? No non devi chiamarlo e non avrai la promozione. Come vi fanno sentire queste risposte? Tanto per cominciare dobbiamo comprendere che stiamo usando lo strumento nel modo sbagliato poiché i tarocchi non nascono a questo scopo ma come tutti i metodi di divinazione nascono per portarci sulla retta via. Nascono per ricreare un equilibrio perduto fra noi e il resto dell'universo. Nascono per guidarci nel raggiungimento dei nostri obiettivi e non per dirci se li raggiungeremo oppure no anche perché questo dipende realmente solo ed esclusivamente da noi, dai nostri comportamenti, dal modo in cui ci approcciamo agli obiettivi, dalla scelta corretta o sbagliata degli obiettivi giusti o sbagliati e dal nostro modo di pensare. Com'è il nostro modo di pensare? È positivo e potenziante o è negativo e sminuente nei confronti di noi stessi? Se i nostri stessi programmi mentali, quelli con cui siamo stati educati, programmati da bambini, sono autodistruttivi, beh difficilmente riusciremo a raggiungere qualunque tipo di obiettivo nella vita. Ma ecco che i tarocchi possono venire in nostro aiuto perché ponendo le domande nel modo giusto possono aiutarci a comprendere in che modo dobbiamo cambiare atteggiamento per arrivare esattamente dove vogliamo. Oppure possono aiutarci a comprendere se l'obiettivo da noi scelto è il migliore anche secondo la nostra anima, secondo il nostro se superiore, secondo il nostro piano di vita e quindi ecco che possono impedirci per esempio di navigare e nuotare controcorrente e andare verso qualcosa che in effetti non è il meglio per noi, non fa per noi. Inoltre, come abbiamo già detto o diremo in altri video, i tarocchi non sono fatti per rispondere a domande a risposta chiusa con risposta sì o no, i tarocchi sono fatti per dare risposte aperte. Dunque se siete interessati invece a conoscere uno strumento divinatorio che possa rispondere sì, no o forse dedicatevi piuttosto alla malacomanzia. Ho creato un corso apposito proprio per insegnarvi ad utilizzare le conchiglie divinatorie. I tarocchi nascono per mostrare gli infiniti aspetti in cui possiamo trovarci o le infinite sfaccettature delle situazioni che stiamo vivendo e non sempre possono dare risposte nette e non sempre possono prevedere un futuro che ancora non esiste. I tarocchi non parlano in bianco e nero ma in infinite sfumature di grigio. Ma non solo. Se la risposta alla nostra domanda fosse negativa ci sentiremo frustrati, impotenti, delusi e a cosa ci porterebbe questo stato d'animo? Sicuramente a nulla di buono. Sicuramente perderemo ogni stimolo a lottare per raggiungere i nostri desideri e realizzarli. Se tanto la risposta è già negativa, che senso ha lottare, sforzarmi e perdere energia per qualcosa di totalmente inutile? Ed ecco che in quell'esatto momento avete perso totalmente il controllo sulla vostra vita. Siete diventati delle marionette o dei burattini nelle mani del karma. Infine bisogna sempre tenere presente che il futuro non esiste. Esiste semplicemente il futuro più probabile al quale noi avremo accesso se continuiamo a comportarci, a pensare, ad agire nello stesso modo in cui abbiamo fatto fino ad ora. Ciò significa che una risposta sì o no alla domanda troverò l'uomo giusto? Riuscirò a fare il lavoro che amo? Non ha assolutamente senso. La risposta dipende dal tipo di persona che tu decidi di essere oggi e ogni giorno della tua vita. Se tu decidi di essere la donna o l'uomo giusto per attrarre il partner ideale allora lo attrarrai. Se tu decidi di essere la persona giusta per quello specifico lavoro allora sarà tuo ma devi tu essere quello giusto. E tanto per cominciare cominciamo oggi a imparare a porre le domande ai nostri tarocchi nel modo giusto. Ed ecco le tre qualità che una domanda deve avere per ottenere un effetto potenziante e per essere realmente utile. Primo la risposta deve essere aperta e non un sì o no come abbiamo già detto. Secondo la domanda deve essere fatta in modo chiaro e specifico e non generale. Vaga confusa come siete confusi voi mentre fate la domanda e non sapete cosa volete. Terza e più importante indicazione. La domanda deve essere focalizzata su quello che tu puoi fare per raggiungere il tuo obiettivo. Su ciò che è in tuo potere per cambiare la realtà che ti circonda o per crearla nel modo in cui tu desideri. E adesso passiamo alle domande che ho selezionato per voi per poter sfruttare al meglio le sessioni private con i vostri tarologi o cartomanti preferiti. Prima domanda. Cosa devo imparare da questa situazione? Ricordate sempre che una situazione per noi magari negativa svanisce nel momento stesso in cui impariamo la lezione che è venuta ad insegnarci. Dunque comprendere ciò che non stiamo ancora capendo è fondamentale per modificare la realtà che ci circonda, per eliminare gli ostacoli dal nostro cammino e risolvere dei problemi. In questo modo stiamo chiedendo alle carte di tirare fuori cose nascoste, poco visibili o poco chiare alla nostra coscienza. La seconda domanda ideale è cosa accadrebbe se? Cioè invece di chiedere cosa accadrà, cosa accadrebbe se io mi comportassi in questo modo? Oppure se mi comportassi nell'altro? Questo ci dà la possibilità di avere di fronte a noi un ventaglio di possibilità e di opzioni fra le quali possiamo scegliere e di modulare e modificare il nostro comportamento e le nostre scelte proprio in base al risultato che scegliamo di raggiungere. In questo modo stiamo osservando uno o più possibili scenari futuri che ci permettono appunto di scegliere bene come comportarci, cosa fare e cosa no e di vedere le conseguenze delle nostre future azioni. In questo modo saremo pronti a gestire ogni possibile risultato oppure ostacolo e potremo decidere come agire con maggiore consapevolezza. Terza domanda utilissima. Di cosa ha bisogno la mia anima proprio in questo momento? Questa domanda è bellissima poiché ci riconnette alla nostra essenza divina, al nostro sé superiore che sa tutto di noi e sa esattamente di cosa abbiamo bisogno adesso per vivere al meglio questo momento della nostra vita. Quarta domanda. Come posso vivere in armonia con la mia vera natura? Molto spesso, soprattutto nella società di oggi, siamo portati a non essere noi stessi, a comportarci come gli altri desiderano, a fare ciò che gli altri si aspettano da noi e questo ci allontana dalla nostra natura e questo ci porta a star male sia psicologicamente sia energeticamente e sul lungo termine ha anche degli effetti sulla nostra salute fisica. Ecco dunque che questa domanda è potentissima poiché può portarci innanzitutto a comprendere davvero chi siamo e poi può aiutarci a riallineare le nostre azioni e la nostra quotidianità a ciò di cui davvero abbiamo bisogno e al piano divino stabilito da noi per la nostra vita. Quinta domanda bellissima. Quali nuove opportunità stanno per apparire nella mia vita? Ed ecco che si aprono di fronte a noi infiniti sentieri, infinite possibilità che avremo presto di fronte ai nostri occhi e che potremo scegliere. Dunque questa domanda ci permette appunto di prepararci magari a queste scelte, di rifletterci con più calma, con più attenzione. Sesta domanda. Quali sono le cose che in questo momento non vedo di me stesso, di un'altra persona o di una certa situazione che sto vivendo? Quali sono le cose nascoste ai miei occhi? Quelle che non voglio o non riesco a vedere? Questa è una domanda fondamentale nei momenti in cui rischiamo ad esempio di credere a cose che non sono vere, nei momenti in cui non siamo capaci di guardare e vedere le cose per ciò che sono davvero, nei momenti in cui ci fidiamo di altri o di credenze, convinzioni che sono state nostre fino ad oggi e che però non ci permettono di fare le scelte giuste. Magari siamo abituati a dare ragione a noi stessi e torto agli altri a priori, poiché non riusciamo a vedere quando la ragione sta nelle mani degli altri. Magari siamo abituati a fidarci dell'apparenza o di quello che ci viene detto? Ecco che questa domanda può portarci in salvo in questi casi. E infine la settima domanda. Qual è la cosa che conta maggiormente nella mia vita in questo momento? Ritroviamo il focus, ritroviamo l'accentratura, ristabiliamo l'ordine delle priorità. Molto spesso ci facciamo distrarre da cose urgenti, poco importanti e questo ci porta a stancarci, ci porta a disperdere energia e a perdere la concentrazione su ciò che invece davvero conta. Spesso ciò di cui abbiamo bisogno è portare la nostra attenzione su quello che davvero serve e tutto il resto si aggiusta poi da solo, automaticamente e in maniera totalmente spontanea e naturale. Se qualcuna di queste domande ti ha colpito particolarmente o ha risuonato con qualche parte di te e della tua anima, quello che ti invito a fare è corri a prendere il tuo mazzo di tarocchi, corri a fare questa domanda e magari potresti scoprire informazioni importantissime per te in questo momento, cose alle quali non avevi mai pensato o non avevi mai fatto attenzione. E se invece hai in mente altre domande che potrebbero essere altrettanto utili per te o per chi ci sta guardando in questo video, ti invito a scrivere giù nei commenti la tua domanda e a contribuire a questa lezione virtuale. Come sempre io spero di esservi stata utile e vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati su nuovi video. Se siete incuriositi da questo mondo e volete imparare i tarocchi, inoltre sappiate che all'interno della piattaforma della mia Accademia internazionale di studi olistici ed esoterici, trovate un videocorso gratuito sugli arcani maggiori, che non è altro che un estratto del corso arcani maggiori con il metodo Maya. Potete iscrivervi dal link che trovate nel box in descrizione e per il resto io vi mando un saluto, un abbraccio alla prossima e ciao!